Il Crema 1908 non vuole saperne di fermarsi e adesso si può davvero sognare in grande. In casa Brianzo il Ginatese arriva un nuovo successo per i nerobianchi che alimentano la serie di sei vittorie nelle ultime sette gare giocate. Ferretti attenta subito alla porta locale, mancandola di un paio di metri. Poi il bomber apre dietro per Poledri che mira il secondo palo e trova Colnago. Lo stesso portiere di casa è bravo e fortunato quando Ferretti, sempre lui, calcia la soterra, la palla viene deviata ma l'estremo si ritrova la sfera tra le mani anziché essere spiazzato. Sempre Crema, sempre Ferretti, cross di Poledri da sinistra e il 9 colpisce troppo debolmente. Il tandem torna a farsi vivo alla mezz'ora, stavolta parti invertite. Ferretti dentro per Poledri, cross basso dopo essersi allargato ma il portiere tiene lì la sfera. Si passa la ripresa anche se lo spartito in realtà non cambia, gioca sempre il Crema 1908. Gran palla dentro di Bigotto per Poledri che calcia centrale. Anche i padroni di casa a questo punto si scuotono. Cross di Duguet trattenuto da Ziglioli. Dopodiché Kuban prende la mira dal limite in azione personale e costringe Ziglioli alla parata impegnativa. Poi il Crema riprende le fila del discorso e non la molla più. Sembra pronto ad esultare sulla volée di Ruffini con la sfera che però deviata finisce fuori di poco. Cerasani si inserisce e calcia sull'esterno della rete. Poi ecco il gol vittoria sospirato e davvero ben costruito. Poledri lungo linea per Mandelli a sinistra che inventa la giocata. Palleggio più assist per Ferretti. Questa volta implacabile 0-1. Finisce qui perché l'ultima azione pericolosa locale viene fermata per un fallo. Il Crema 1908 può esultare.